In chiave moderna, mettendo il DJ, quindi suonerà la sfilata, quindi questa è la composizione del carro che sarà abbellita, ornata con delle luci e con degli effetti molto luminosi e quelle saranno una sorpresa E per quanto riguarda i vestiti, cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, i vestiti ci sarà una bella sorpresa, saranno dei vestiti semplici, comunque molto colorati, che ricreeranno l'Egitto di 3.000 anni fa Quindi non anticipiamo niente? Non anticipiamo niente, sarà tutta una sorpresa In bocca al lupo, buona sfilata e buon carnevale Grazie a Francesco Brullo, rappresentante del carro allegorico in concorso, gli egiziani Bene, bene, in bocca al lupo ragazzi, complimenti per questa idea e noi continuiamo in diretta live, siete in tantissimi che ci state ascoltando Più di 120 ascolti abbiamo in diretta in questo momento, quindi vi ringraziamo, ma noi ringraziamo anche i nostri partner commerciali e per questo arriva la reclama A tra poco Radio Tele Locale Spot Il servizio animazione, hashtag Devolume Lato Festa La nostra animazione è sicuramente la scelta ideale per tutti coloro che vogliono la certezza di un evento divertente e musicalmente perfetto Con l'energia ed esperienza del nostro staff sapremo soddisfare e divertire voi e tutti i vostri invitati Offrendovi un ventaglio completo di proposte per coinvolgere tutti in un divertimento senza fine Inoltre il nostro staff sarà in grado di creare l'atmosfera giusta al momento giusto Radio Tele Locale non è solo un sinonimo di divertimento, ma anche di eleganza e professionalità Caffè Centro, Tavola Calda, Pastizzeria e Gelateria, Corso Umberto, Chieramonte e Gulfi Voglia di Panineria e Creperia di Giovanni Terlato, Piazza Santissimo Salvatore, Chieramonte e Gulfi Risica Pizzeria, Invia Corallo, Chieramonte e Gulfi Contatta Risica allo 0932 92 24 05 Astag, chi non risica resta di uno Pastizzeria del Corso di Vittorio Mucinuzzo, Corso Umberto, Chieramonte e Gulfi Agenzia Loranze Funde e Brindavola, Corso Europa, Chieramonte e Gulfi Kefap, lavorazione marmi di Gabriele Cugnata, incontrate quattro cappelle a Chieramonte e Gulfi Cry supermercati, scollo distribuzione Telefono 0932 928 096 a Chieramonte e Gulfi Caffè Umberto, pasticceria e gelateria, Corso Umberto e Chieramonte e Gulfi Minimarket di Silvia e Cinzia, Corso Umberto 34, Chieramonte e Gulfi Prima fila dei Fratelli Spagna, all'interno ampia scelta di birre artigianali, veniteci a trovare, Corso Umberto, Chieramonte e Gulfi Agriturismo Pizzeria Parco degli Olivi, Contrada Morana a Chieramonte e Gulfi Centro Joelle di Grazia la Cognata, Invia Cappella a Chieramonte Boulevard Cafè di Santa Forte, in Piazza Matteotti, ad Acate Panificio San Giuseppe di Salvo Bullo, Invia Sanzone, Chieramonte e Gulfi, vieni a trovarci Ringraziamo i partner commerciali ancora una volta Ebbene, ebbene, ma la nostra fiesta non finisce poi con il lunedì della Sagra della Salsiccia alle 21.30 No, continua per tutta la settimana perché signori siamo arrivati a 5 anni con voi Il nostro compleanno, 5 anni di radio telelocale e quest'anno abbiamo voluto festeggiare alla grande Perché avremo in collegamento telefonico direttamente da Napoli in collaborazione con Radio Kiss Kiss Il grande Pippo Pelo che appunto sarà con noi e ci parlerà un po' della radio Quindi non perdetevi questa puntata e poi tutta la settimana di queste manifestazioni inerenti al nostro quinto compleanno Quindi, immancabilmente, martedì 16 febbraio, a partire dalle ore 20.30 Una speciale diretta con tutto il nostro staff presente in studio Spettacolo, e tutte le voci di radio telelocale in una sola puntata Quindi, da non perdere Da non perdere E vi lasciamo con la fiesta Facciamo un po' di fiesta, dai Fiesta Facciamo un po' di fiesta Facciamo un po' di fiesta Facciamo un po' di fiesta E mi ha detto, se non sei tu, che farei se non sei tu E è sabuto che è pericoloso, dire sempre la verità Si un dia ti ha sentito dolorata, no, no dici che le chiede, calla lui E mi ha detto, se non sei tu, che farei se non sei tu E è sabuto che è pericoloso, dire sempre la verità Mira perché, a voglio questa fiesta e me lo pone Fiesta, che fantastica, fantastica questa fiesta Che fantastica, fantastica questa fiesta E questa fiesta è la che distrugge il suo amore Ma come si è andata? Si, si, fate fiesta con noi, bene, bene, bene Le 15 e 37, se non erro, di questo pomeriggio, di questo sabato pomeriggio ancora in diretta E sono le 57, mamma mia come passa il tempo E poi passa il tempo, voi non ve ne rendete conto Ma passa, passa, passa velocemente Mi sono fatto prendere dal fatto di fare fiesta E poi sono questi i risultati, le 15 e 57, bene E allora noi continuiamo con questa diretta Ancora protagonisti, i ragazzi di questo carnevale E andiamo a vedere cosa hanno da dirci Invece il secondo carro in concorso Quindi sono i Minions I nostri microfoni, c'era Beciso Burrafato che li ha intervistati Intervistati Intervistiamo Giancarlo Battaglia, rappresentante dei Minions Radio Telelocale Enjoy Radio Si trovo con Giancarlo Battaglia, rappresentante dei Minions al Carnevale 2016 Ciao Giancarlo Ti chiediamo come mai avete scelto questo tema La scelta di questo tema perché comunque sia un tema molto attuale I Minions sono un film che è uscito in quest'estate Nella sale italiana, che è il riscorso molto successo E troviamo Minions, se può dire, dappertutto È stato un successone, con tutti gli effetti Pertanto abbiamo deciso di rappresentare questo tema Quindi un prodotto comunque che va ed è attualissimo Assolutamente E adesso ti chiediamo come è strutturato il carro Allora la struttura è composta da diverse parti Tra cui troviamo un Rebob gigantesco Che ha tra le sue mani la residenza Regalo, ovvero Buckingham Palace Tant'è che da questo viene il titolo per la conquista della corona E poi davanti troviamo dei Minions Che in alcune posizioni, in alcune parti del film È comico, se forse si può dire Ci sono dei movimenti Si, stiamo utilizzando due movimenti elettri e due movimenti manuali Peraltro non c'è più niente E sulla scelta dei costumi, cosa ci dobbiamo aspettare? Tanti Minions Abbiamo deciso proprio di concentrarsi sui costumi Di fare qualcosa di molto reale Tant'è che saranno dei costumi molto voluminosi Quindi il più possibile reale Ci saranno anche una bella varietà di Minions Assolutamente Dal Minions preistorico al Minions napoleonico Al Minions stile Rebob E al figlio dei fiori Ce ne sono per tutti i gusti Va bene Io ti ringrazio Grazie a te Ti diamo qualche altra piccola anticipazione? Niente, non anticipo niente Perché altrimenti togliamo il bello Soltanto auguriamo Speriamo che il tempo sia dalla nostra parte Soltanto quello Sì, sì, sì Assolutamente In bocca al lupo ragazzi Paracaibo Palla al barracuda Sì, ma palla nuda Zà, zà Sì, ma le maschi in pistola Sì, ma le mitragliere Era una copertura Facciano trattico andarmi con Cuba Innamorata Sì, ma di Miguel Ma Miguel non c'era Era in cordigliera da mattina a sera Ma c'era Pedro Con la verde luna L'abbracciava sulle casse Sulle casse di nitroglicerina Torno, Miguel tornò La vita in pallidi Il cuore suo tremò Quattro colpi di pistola Lei sparò Maracaibo Mare forza nove Fuggire sì, ma dove? Zà, zà Un albero spezzato Una pinna nera Nella notte oscura Come una bandiera Morde il pesce cane Nella pelle bruna Una zanna bianca Come la luna Bene, Maracaibo E chi non si diverte con queste belle canzoni Le colonne sonore del nostro carnevale Bene, ancora in diretta Sono fatte le sedici e un minuto Anche a Chiara Montegulfi Bene, e allora Grazie a tutti i partecipanti Dei carri Dei rappresentanti Che hanno parlato ai nostri microfoni Grazie all'assessore Grazie al sindaco Noi siamo un po' a conclusione Di questo speciale Il nostro quinto speciale Di carnevale Non ci resta che ringraziare Tutti gli amici Che ci stanno ascoltando Siete davvero in tanti Questo pomeriggio E noi ricordiamo i nostri appuntamenti Quindi questa sera Questa sera Andiamo da Coco Per divertirci Per iniziare Ecco Questi tre giorni Iniziamo con questa bellissima serata Da Coco E poi vi aspettiamo in piazza Ovviamente dalle ore 19 alle 21.30 Tanta buona musica E tanta animazione In compagnia dello staff di Radio Telelocale Che a questo punto vi saluta Vi auguro un buon pomeriggio E alla fine la vita È un carnevale Si dice così? La fine la vita è un carnevale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a Vito Messina Grazie a Vito Messina Grazie a Vito Burrafato E allora alla prossima Con Radio Telelocale E appunto Buon carnevale a tutti Grazie a Vito Messina Grazie a tutti Se va cantando Se va cantando Oh, no hay que llorar, la vita è un carnaval, è più bello vivi in canto sol. Oh, no hay que llorar, la vita è un carnaval, è più bello vivi in canto sol.